ecco ciao raga allora raghi dragon ball rassegna le dimissioni cosa c'è dietro allora sono giochi sono giochi che fanno sono giochi che fanno perché in pratica loro sanno tu e si mettono d'accordo così insomma tu chiedi le dimissioni e quell'alta cariatide le dici no guarda le respingono fanno pinta che ci sia una cosa a questa maniera no probabilmente ci sarà un turnover funziona in questa maniera un turnover per quella ragione perché per quanto riguarda la percezione alluminidi palmati quelli che adesso stanno pensando se farsi la quarta o no siccome un po di casini hanno fatti pensate ragazzi non si passa soprattutto per amore del cielo ricordati che cosa ha detto è cosa chi non si fa il punturino è si ammala muore no invece in realtà si ammala e muore chi se lo fa contrario preciso no così un'espressione così forte no così forviante no eccetera ma non è solo questo la situazione economica italiana in quello che di fatto sta sta venendo a creare insomma così ci sono dei malcontenti importanti tanto che il fronte delle delle persone degli scontenti cresce a dismisura no in maniera incredibile quindi il loro trucco qual è lo trucco è quello di cambiare cambiare il narratore per mantenere inalterata la narrativa la rifaccio il loro trucco è quella di fingere di cambiare per non cambiare niente secondo voi questi due ceffi no una delle persone delle persone più squallide brutta anche esteticamente devo essere sincero proprio che sarebbe la persona che dovrebbe garantire la nostra la nostra patria che non sa si mette d'accordo con quell'altro con quella con dragon ball no la lucetta non si mette d'accordo per andare per fare il tour 9 la fanno un po la fanno un po formato tv formato formato cinema è successa la cosa quando vi ricordate la presidentessa che sconsiglia tutti una presentessa conte che arrivava tutta figa no quando certo punto lui però quella volta non lo capì insomma voi dovete sapere che quando ci sono di mezzo delle brame e purtroppo c'è purtroppo per loro per fortuna per noi questo va a discapito della capacità diciamo cognitiva degli individui delle persone e di conseguenza insomma sei un po preso e purtroppo non riesce a discernere come dovresti comunque a certo punto hanno detto brava brava presidentessa benissimo ha fatto molto bene brava inizi a sputtanare la sufficienza benissimo ora prenderà un partito fare lo zero virgola ottimo per favore adesso spostati sconsati che arriva draghi e lui non accettò questa cosa non ce l'era ricordata questa cosa qui ve la dovete ricordare perché lui fece una cosa incredibile bypassò le camere quando c'era chiaramente nell'aria c'era questa cosa e fece una diretta facebook ragazzi stiamo vedendo delle cose meravigliose questa diretta facebook e si fece un delirio una delle dirette più imbarazzanti no che si sono mai sentite così no ma non perché non avesse argomentazioni proprio perché era una cosa totalmente estemporanea eccetera per cercare lui voleva un po dire questo perché era del tutto convinto che comunque ci fosse una grande popolarità in un riscuotesse per me era convinto che comunque era popolare mi mandate via vi faccio vedere io che ora lo dico a tutti loro pensano loro il popolo che verrà vedete se non ci pensano loro pensava che lo tenessero lì ovviamente no infatti anche quando sempre la presidentessa che sconsiglia andò in piazza perché c'erano dei dissidenti lui dice come come dissidenti ma per cosa è andato in piazza l'hanno ricoperto totalmente e lui non era offeso era sorpreso e cercava di capire ma stavano dicendo forse da facevano stavano parlando con le guardie del corpo non capiva bene i turnover finti cambierà draghi non cambierà draghi draghi adesso a livelli di impopolarità incredibile si sta ricoprendo di ridicolo sta suscitando rancori un po ovunque l'idea che possa andar via hanno ci fa ci fa respirare un po un sospiro di sollievo questa è una strategia che stanno un po usando in varie parti d'europa avete visto l'inghilterra la francia pensate che se avessero voluto tenere macron non avrebbero continuato a falsare le elezioni per farlo non l'hanno fatto perché c'è un turno per macron più sputtanato di dragon ball ovviamente e di conseguenza devono metterci un altro fantoccio mi raccomando la soluzione non è mai governativa non cadiamo a questi non cadiamo in questi giochettini loro continuiamo a concentrarci sulla cosa più bella sulla vita e loro sono l'antivita da sempre ragazzi sono abbronzato comune livornese ciao